Nel 295 a.C., a Sentino, i romani affrontano una coalizione di popoli italici composta da Etruschi, Umbri, Galli e Sanniti. I Sanniti costituirono il più grande nemico romano a cavallo tra il IV ed il V secolo a.C. Roma, per affrontare questa minaccia, nominò come console V Fabio Massimo Rulliano, veterano di molte battaglie, a cui fu affiancato il giovane Publio Decio Mure. I due si misero a capo di un esercito composto da ben quattro legioni, pronte ad affrontare l'imponente schieramento nemico. L'esercito dell'Urbe quindi giunse nei pressi di Sentino e si accampò. A fronteggiare i consoli vi era un grande generale italico, il Sannita Gelio e Ignazio. L'alleanza si divise i compiti, Sanniti e Galli avrebbero affrontato in battaglia i romani mentre, Etruschi ed Umbri, avrebbero attaccato il campo nemico. I romani, venuti a conoscenza di questo piano, spostarono l'esercito a difesa di Roma verso i territori etruschi, quest'ultimi, minacciati da questo spostamento, ripiegarono verso le loro terre. Contemporaneamente nel Sannio, ulteriori due legioni romane, iniziarono le operazioni belliche. A Sentino si arrivò alla resa dei conti con eserciti sostanzialmente di pari entità. Decio Mure, sull'ala sinistra, si schierò contro i Galli mentre Quinto Fabio, sull'ala destra, affrontò i Sanniti. L'ala destra romana si muoveva sulla difensiva, cercando di sfiancare i nemici mentre, l'ala sinistra, si mosse con impeto verso i nemici. Questa differenza di approccio non giovò ai Romani, lo schieramento di sinistra, seppur in una prima fase riuscì a spingersi dentro le linee nemiche, si trovò poi ad affrontare i carri da Guerra dei Galli. L'azione dei Galli portò scompiglio nella cavalleria romana che, nel tentativo di ripiegare, travolse le stesse legioni. Decio Mure, nel vano tentativo di riportare ordine, decise per una mossa suicida e si lanciò contro i nemici per spronare i soldati. In questa carica trovò la morte ma motivò i suoi soldati che ripresero a lottare, aiutati anche dai rinforzi inviati dall'ala destra romana. Questa operazione riportò l'ala romana in vantaggio permettendo al console superstite di lanciare un attacco risolutivo. La cavalleria romana girò quindi i nemici sui fianchi, contestualmente la fanteria avanzò per aumentare la pressione sui sanniti che arretrarono oltre le linee di difesa dei Galli. Quindi Fabio, informato della morte del collega, inviò un gruppo di cavalieri alle spalle dei Galli mentre un altro distaccamento romano portò nuovo vigore all'attacco. Contestualmente il console si lanciò verso l'accampamento nemico e qui, a ridosso della palizzata del campo, si accese una furibonda mischia che vide la caduta del generale nemico Gelio e Ignazio. La vittoria romana fu schiacciante, 25.000 morti, 8.000 prigionieri e circa 8.000 caduti tra i romani. Quinto Fabio poté quindi celebrare il suo trionfo a Roma. La battaglia di Sentino permise ai romani di diventare la maggiore potenza italica, decidendo di fatto il futuro della penisola.